Una gestione dell'emergenza covid insufficiente e lacunosa. La denuncia è del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci che imputa alla Giunta regionale e all'assessorato alla sanità ritardi sia sul fronte dell'effettuazione di tamponi che sulla vaccinazione anti-influenzale. Dopo la conferenza stampa che noi abbiamo svolto a luglio, la legge fu approvata ad aprile e maggio, cura Abruzzo 1 e 2, questi erano i conti relativi alla conferenza stampa di tre mesi fa, nulla è cambiato. Sono rimasti dei 147 milioni propagandati a più riprese da un anno, appena 22 milioni sono le risorse erogate e sono state impegnate 40 milioni di risorse a fronte di 65 di cui non vi è alcuna traccia neanche a livello degli impegni. E in tutto questo denunciamo peraltro il gravissimo ritardo con il quale questa regione e questo governo regionale stanno affrontando la dinamica della spesa dei fondi europei. Quest'altra immagine che sintetizza purtroppo i dati in nostro possesso è ricavabile dal Ministero, quindi dove ci sono le risurtanze di tutte le regioni, noi abbiamo impegnato sull'FSE e sul FES 30 milioni di 110 e 61 di 210. Siamo l'ultima o tra le ultime regioni d'Italia. Questo governo regionale è nel pallone, è impegnato da otto mesi a portare avanti una legge debito fuori bilancio per il Napoli che vale 14 milioni di euro per i prossimi 11 anni e siamo ultimi su tutte le loro promesse che avevano portato avanti in questa annualità. Hanno persino azzerato le risorse del Masterplan così come abbiamo denunciato e dopo averci chiesto pazienza ad aprile a maggio di far passare questi provvedimenti per l'emergenza un anno non ne hanno impegnato e non hanno soprattutto erogato a cittadini, imprese e famiglie alcuna risorsa sostanziale. Oggi c'è stato un altro caso per il quale di fronte a un pronto soccorso c'è stato un altro decesso. Siamo al terzo decesso in pochi giorni. Perché non c'è la governance? Perché quando arrivano bisogna prima fare i tamponi, attendere i risultati e la gente aspetta fuori. Così come tante altre famiglie non riescono a farsi i tamponi presso i drive-in, presso le strutture sanitarie. Una domanda, ma c'è qualche bambino anziano che riesce a farsi in Abruzzo il vaccino per l'influenza? No, questa è la grandissima, purtroppo, rilevanza del tema che stiamo toccando. Ci si viene a raccontare in ciascuna commissione quella ovviamente sanità, che è tutto in ordine, che tutto è a posto. Dopodiché Marsilio il 31 ottobre denuncia che l'Abruzzo è sotto controllo e il 1 novembre, smentendo se stesso, ci racconta che invece gli ospedali sono saturi. È davvero scandaloso quello che sta avvenendo.